Ma insomma delle somme, chi è egli mai? Questo succede, dove è nato? Quale la sua passata vita? Come gli è saltata in testa di darsi a tale esperimento? Qual è la sua costruttura fisica? Qual è il funzionamento della psiche sua? Cosa vuole? Dove vuole arrivare? Quali sono i risultati dell'esperimento? Quali le ragioni del fenomeno? E via di seguito, mille domande. O ad alcune delle quali si potrebbe anche rispondere subito. Ad altre, no. Ad altre, no. Cos'è il quarto appuntamento? Ad altre, no. Ad altre, no. In questi ultimi decenni, l'interesse per i digiunatori è molto diminuito. Mentre prima meritava mettere su spettacoli di questo genere, per proprio conto, oggi sarebbe assolutamente impossibile. Erano altri tempi quelli. Tutta la città si occupava allora del digiunatore. A ogni giorno di digiuno aumentava l'interesse del pubblico. Tutti volevano vedere il digiunatore. Almeno una volta al giorno. E negli ultimi giorni c'erano perfino degli abbonati che sedevano intere giornate davanti alla sua piccola gabbia. Anche di notte avevano luogo delle visite alla luce delle fiaccole per aumentarne l'effetto. Quando il tempo era bello, la gabbia veniva trasportata all'aperto. E allora erano specialmente i bambini a cui veniva mostrato il digiunatore. Mentre per gli adulti costituiva spesso solo uno spasso a cui si partecipava perché era di moda. I bimbi lo guardavano ammirati a bocca aperta, tenendosi per precauzione per la mano, mentre egli pallido nella sua maglia nera con le costole esageratamente sporgenti, sdegnando perfino una poltrona, se ne stava seduto sopra paglia sparsa qua e là, facendo a volte un cenno cortese con la testa, a volte rispondendo alle domande con un sorriso sforzato o allungando un braccio attraverso le sbarre per far palpare la sua magrezza. E finiva poi per sprofondarsi in se stesso senza occuparsi più di nessuno, neppure del battito dell'orologio così importante per lui, unico immobile della sua gabbia, per guardare fissamente con gli occhi semichiusi dinanzi a sé, succhiando di quando in quando un sorso d'acqua da un minuscolo bicchierino per inumidirsi le labbra. Si provi qualcuno a spiegare l'arte del digiuno, a chi non la conosce non si può darne un'idea. I bei cartelloni con le iscrizioni divennero sudici e illeggibili, vennero strappati via e a nessuno venne in mente di sostituirli. La piccola tabella poi, col numero dei giorni di digiuno compiuti, che nei primi tempi veniva rinnovata ogni giorno, rimase per lungo tempo sempre la stessa, poiché dopo le prime settimane al personale del circo anche quella piccola fatica era parsa troppo. E così il digiunatore continuava a digiunare come aveva sognato un tempo e gli riusciva senza sforzo, come aveva predetto. Ma nessuno contava più i giorni, nessuno, nemmeno il digiunatore. Sapeva quanto alta era ormai la sua prova e il suo cuore si sentì oppresso. E se una volta in quel tempo qualche sfaccendato si fermava dinanzi alla gabbia, considerava con ironia la cifra altissima e parlava di imbroglio, era, in questo senso, la più stupida menzogna che l'indifferenza e un'innata malignità avevano potuto inventare, poiché non era il digiunatore ad ingannare. Egli lavorava onestamente, ma il mondo lo frodava del premio che meritava. E passarono ancora molti giorni e anche questo finì. Un giorno la gabbia, dette nell'occhio a un custode, che chiese agli inservienti perché si tenesse lì quella gabbia ancora buona ad usarsi, senza utilizzarla, con tutta quella paglia fradicia. Nessuno lo sapeva, sinché uno, col soccorso dei cartelli, non si ricordò del digiunatore. La paglia venne smossa con delle stanghe e vi si trovò il digiunatore. Digiuni dunque ancora? chiese il custode. Quando ti deciderai a smettere? Perdonatemi voi tutti. Sussurrò il digiunatore, ma soltanto il custode, che teneva l'orecchio accosto alle sbarre, lo intese. Ma certo, disse il custode, toccandosi la fronte con un dito per accennare al personale lo stato in cui si trovava e il poveretto ti perdoniamo. Ho voluto sempre che ammiraste il mio digiuno, continuò il digiunatore. «E noi infatti ne siamo ammirati», disse condiscendente il custode. «E invece non dovreste ammirarlo?» replicò il digiunatore. «E allora non lo ammireremo», rispose il custode. «Ma poi perché non dobbiamo farlo?» «Perché sono costretto a digiunare», continuò il digiunatore. «Ma senti un po', disse il custode, «perché non ne puoi fare a meno?» «Perché io», disse il digiunatore, sollevando un po' con la sua piccola testa e parlando con le labbra appuntite come per un bacio proprio nell'orecchio del custode. «Perché non riuscivo a trovare il cibo che mi piacesse?» «Se l'avessi trovato, non avrei fatto tante storie e mi sarei messo a mangiare a quattro ganasce come te e gli altri. furono le sue ultime parole, ma nei suoi occhi spenti si leggeva ancora la ferma, anche se non più superba, convinzione di continuare a digiunare. «E ora fate ordine!» disse il custode. E il digiunatore fu sotterrato insieme alla paglia. Nella gabbia fu messa poi una giovane pantera. e vedere nella gabbia sì, a lungo deserta di menarsi quella fiera fu un sollievo per tutti. Anche per gli spettatori più ottusi non le mancava nulla. Il cibo che le piaceva glielo portavano senza tante storie e guardiani. Non sembrava neppure che la belva rimpiangesse la libertà. Quel nobile corpo perfetto e teso in ogni parte sin quasi a scoppiarne pareva portare con sé anche la libertà. Sembrava celarsi in qualche punto della sua tentatura. e la gioia di vivere emanava con tanta forza dalle fauci che agli spettatori non era facile resistervi. ma si dominavano circondando la gabbia e non volevano saperne di andare via. questo era il digiunatore di Franz Kafka un racconto di cento anni fa cento anni bollati esatti cento anni esatti dopo quel racconto esce un libro e nelle pagine di questo libro tra le tante cose che scopriremo questa sera c'è scritto nel 1910 Giovanni si esibì a Praga tra il pubblico c'era Franz Kafka chi ha visto una fotografia di Kafka non può dimenticare i suoi occhi instaurò un dialogo a base di sguardi col digiunatore che aveva così disse all'amico Max Brod uno sguardo da pantera dodici anni dopo scrisse il racconto un artista del digiuno il racconto inizia con queste parole in questi ultimi anni l'interesse per i digiunatori è molto diminuito un tempo pensavo fosse una battuta invece è la verità Kafka accoglie il momento del declino e intuisce che sarà impossibile spiegare il fascino dei digiunatori ai posteri pare che si sia ispirato a Giovanni Succi solo che l'ha capovolto il digiunatore caffiano è uno scheletro triste non mangia perché non trova niente che gli piaccia il vero ritratto di Giovanni Succi compare alla fine del racconto una pantera che porta con sé la libertà e la gioia di vivere anche in gabbia questa non può essere una coincidenza e siccome non lo è io adesso con un esperimento telepatico evocherò la persona che ha scritto queste parole Enzo Fileno Carabba e lui si materializzerà su questo caso il mio amico Stefano De Martin io abito in campagna è una collina e mi disse ma lo sai che nella collina di fronte che si vede ha vissuto gli ultimi anni e è morto il famoso digiunatore Giovanni Succi io non lo conoscevo e poi cominciò a darmi io non lo sapevo non lo sapevo niente dei materiali ritagli foto perché aveva fatto aveva raccolto molte cose su di lui e quindi rimasi ammaliato dal fatto che questo digiunatore almeno per i primi venti giorni diventava sempre più forte a me piaceva questa cosa come appunto questo Giovanni Succi quello quello là unisce due figure vere ma anche simbolici cioè il digiunatore colui appunto che rinuncia ma anche invece il forzuto e quindi questo mi diceva tantissimo e devo dire che tra le infinite coincidenze e poi voglio sono elencato alcune le elenco nei miei podcast avevo cominciato a giocare a scherzare su questa sorta di scambio di identità tra il Giovanni Succi storico e il Giovanni Succi qui presente e ci ho marciato un po' sopra anche perché ritrovo mi ritrovo molto in questo personaggio dell'Ottocento e stranamente andando a fondo mi accorgo che ci sono dei passaggi tra la storia di questo Giovanni Succi storico e la storia della mia famiglia sono incredibilmente paralleli o di scambio a un certo punto io ci sono arrivato perché uno dei lasciti della mia famiglia era questo amaro che veniva presentato dai miei bisnonni come un liquore portentoso il rimedio a ogni male diciamo che insomma erano ci andavano piano sempre stato una famiglia di persone molto umili molto equilibrate e lo ritrovo poi anche nelle smargiassate del Succi storico uguale lo stesso carattere proprio quindi pensando ai miei bisnonni e a mio nonno che si chiamava anche lui Giovanni Succi e che va al fronte della prima guerra mondiale proprio quando il Giovanni Succi storico muore quindi ci sono una serie di parallelismi ma dicevo questa storia dell'amaro nella mia famiglia è molto antica risale alla prima metà dell'Ottocento forse perché non ho documenti storici il primo documento storico è del 1896 ed è un diploma del circolo enofilo in Roma che premia l'amaro Succi con una menzione d'onore ora come c'è arrivato a Roma su qualche carretto tramite ferrovia non lo so però sicuramente non via internet e il periodo in cui il Succi storico di Cesenatico brevetta il suo liquore è il 1888 quindi c'è uno scarto di pochi anni quindi in quei pochi anni avreste potuto assaggiare due liquori o amaro Succi entrambi cortentosi miracolosi entrambi il rimedio di ogni male quello per il Succi di Cesenatico addirittura gli permetteva di digiunare 40 giorni questo numero vagamente simbolico come scrivi tu nel libro ma cosa c'era dentro quell'amaro Succi te ne sei fatto un'idea? eh sì cioè la vita non lo so però anche all'epoca discutevano molto perché inizialmente lui è un fenomeno così si esibisce nei ristoranti poi ha sempre più successo diventa importante diventa noto internazionalmente discutono cosa c'è in questo Elisir no? si suppone niente niente di legale oggi però a me piace ancora di più pensare che in pratica non ci fosse proprio niente probabilmente niente lo trovavo diciamo in un modo poetico poi qualcosa c'era però che in realtà lui fosse tutto lui perché alla fine nell'accolline di fronte a casa mia quando lui negli ultimi anni guardava sempre questa cassaforte alludeva il fatto che c'erano i tesori molati in anni di avventure perché anche un grande avventuriero inizia come esploratore in Africa ne fa di tutti i colori e lui guardava questa cassaforte dove c'era il segreto dell'Elisir e i suoi tesori poi dopo una morte l'aprono e la cassaforte era vuota che lo trovo un simbolo bellissimo si è stupendo mi ricordo tra l'altro la storia del baule di Dante si si in qualche modo questo baule mitologico di Dante dove si pensa che ci fossero le prime bozio della commedia che è andato perduto poi l'ha fatto portare alla figlia che stava in un monastero ora vero comunque un'altra storia storia di bauli diciamo che al centro c'è il vuoto al centro di tutto questo c'è il vuoto così come secondo me al centro del digiunatore di Kafka il fatto dice non ho non mangiavo perché non trovavo cosa mi piacesse io lo trovo una una grande metafora della scrittura o del fare artistico cioè abdichi alla vita perché in fondo non ti piace lui doveva digiunare così come Kafka doveva scrivere quasi come proprio come forzatura di sé è piaciuto come dire in qualche modo dialogare con Kafka in modo opposto cioè proponendo invece a questo personaggio appunto anche robusto forte sanguigno esagerato però che fa cavallo box di tutto avventure galanti però è interessante perché anche lui comunque sia la maggior parte della vita l'ha vissuto in un recinto di fatto stava perché quando si esibiva erano recensioni casette gabbie quindi qualcosa doveva avere di riduzione all'essenziale di sfida cioè qualche forza potente diciamo che operava in lui doveva essere diciamo Kafka poi lui la ribalta però stava in una gabbia noi siamo partiti dalla fine per raccontare questa storia ma mi piacerebbe a questo punto invece sentire l'inizio ed è l'inizio raccontato da Enzo Fileno Carabio in certi pomeriggi lunghi le carovane uscivano dal paradiso terrestre e puntavano dritto verso il paese cariche di pietre preziose elisir e frutti sconosciuti approfittavano di circostanze cosmiche favorevoli segnalate dalle fosforescenze del cielo e abbandonavano il giardino dell'Eden un luogo che esiste ancora ma non è più abitato da persone normali erano carri traballanti casette con le ruote di legno strani veicoli che portavano scimmie e pappagalli uomini forzuti donne magiche guidati da una stella o da uno sciame meteorico si dirigevano verso la nostra normalità un viaggio nebuloso e difficile raggiunta la pianura i cavalli affondavano nel fango alluvionale lasciato dal diluvio venivano inghiottiti dai fossili sparsi da Dio alla fine arrivavano solo pochi carri o un carro soltanto a volte appariva un uomo solo senza il carro magari con una ruota di legno che lanciava in avanti per spianarsi il cammino poteva sembrare l'acero e mal ridotto ma era immortale Giovanni Succi nacque a Cesenatico nel 1850 vicino al mare oggi a Cesenatico Ponente esiste via Succi una stradina parallela al porto canale Giovanni era un bambino forte e crebbe in una terra di mangiatori nessuno avrebbe potuto immaginare che sarebbe diventato il più grande digiunatore di tutti i tempi nessuno a parte la nonna materna una donna piccola e sensitiva imperiosa che dirigeva la famiglia come si comanda un veliero assecondando i venti e intervenendo solo nei momenti decisivi così almeno la vedeva lei in realtà interveniva spesso il padre di Giovanni si occupava di traffici marittimi la famiglia era benestante ma non era sempre stato così un tempo erano pescatori e di solito quando dici pescatori aggiungi umili umili pescatori in realtà nella famiglia Succi correva da sempre una corrente di grandezza era il suo bello si sentivano eccezionali c'era in questa megalomania una generosità che faceva bene a un bambino soprattutto gli uomini si consideravano i migliori pescatori i più grandi mangiatori i più focosi amatori e così via questa grandezza generica e risoluta si impresse nella mente di Giovanni insieme a una sensazione di invulnerabilità un passato di fame e un presente di grande appetito uno dei modi in cui un neonato era tenuto a distinguersi era mangiare Giovanni cominciò subito bene beveva litri di latte materno come Ercole che in una notte ebbe bisogno di dieci vacche diceva la nonna che aveva un suo strano libro di mitologia non sono una vacca osservò timidamente la madre ma nessuno le dava letta quando fu in grado di assumere cibo solido Giovanni si lasciava rimpinzare felice ma un giorno rifiutò il boccone chiusi la bocca e la riaprì solo per dire solennemente oba oba che ha detto un bambino troppa roba sussurrò la madre troppa roba aveva avuto una visione del futuro dell'umanità tutti risero soprattutto lo zio un uomo enorme e perfino il padre un uomo che non si scordava mai la forza del suo successo e la bellezza dei suoi baffi solo la nonna Luisa abbassò appena le palpebre e scrutò il bambino con sospetto amorevole da allora si convinse che non mangiava abbastanza questa idea andava contro ogni evidenza perché Giovanni in pochi anni diventò un mangiatore eccezionale e dunque normale ma la nonna era capace di visioni intuiva i digiuni del futuro Giovanni iniziava il pranzo stringendosi la cintura alla vita poi a metà pasto la allentava pensando in questo modo di creare uno spazio nuovo e mangiare di più e dare soddisfazione alla famiglia era un bambino impressionabile un cuginetto furbo gli spiegò che durante la prima comunione gli avrebbero messo una fascia sulla fronte così poi il prete ci avrebbe piantato un chiodo crocifissione frontale quando venne il suo turno di avvicinarsi al prete e offrire la fronte si tirò indietro questa fu la prima e ultima volta in cui si tirò indietro davanti a una prova a cena per guarirlo dalla sua stranezza la mamma gli mise nel piatto una doppia razione perché così aveva deciso la nonna quella notte lui ancora scosso dall'immagine della fronte con chiodo sognò la nonna lo voleva mangiare il parmigiano va bene su tutto diceva avvicinandosi era terribile ma quando si svegliò le voleva bene come prima del resto la nonna aveva ragione nel cibo stava il mistero del nipote Giovanni non ingrassava mai si manteneva robusto nel senso di forte era fatto di una materia speciale racconti di uomini prodigiosi che ritrovano dall'apnino super forzuti racconti bellissimi allora poi li ho associati a Sugi sicuramente anche lui li ha sentiti e in particolare uno che mi piaceva troppo di questo che si faceva montare tutte le persone addosso forzuti addosso nudo anche d'inverno e diceva non mi basta non mi basta e questo rimarrà un po' l'atteggiamento di Sugi che io trovo affascinante anche in manicomi anche nel momento perché in realtà affronta momenti molto duri però non si lamenta mai dice non mi basta ancora picchiami ancora io questo non lo trovo e questo ragazzo che è un ragazzo si ritrova in Africa si ritrova in Africa e tutti gli affari gli vanno disastrosamente però è lì secondo lui che riesce a imparare sta malissimo è mezzo morto a imparare come guarire attraverso questo il segreto c'è uno stregone che gli rivela il segreto del digiuno come cura e anche la ricetta segreta di il visire in epoca di covid io ho portato una una pompetta sigillata mi sigillerò qui davanti ai vostri occhi così che vedete che non è mai stata utilizzata prima e qui un bicchiere non ancora usato e possiamo versare un po' di elisir orte di corso dentro il bicchiere e a questo punto somministrare il rimedio di ogni male anzi ad ogni male a chiunque lo voglia ma proprio direttamente sulla lingua funziona certo che funziona chi è il più coraggioso di voi ma io subito bene corpo di Succi non è dato troppo sono troppo un leone ed infatti il signor Giovanni Succi è gli davvero un digiunatore o è un mistificatore è un uomo di sello ed è un cervello panzano è un fatto serio questo del digiuno o è una pacezia è un fenomeno importante o è una sciocchezza curiosa è un fatto che dia speranza di utile applicazione o il servo 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 Grazie a tutti 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 Tutti Grazie a 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 tutti Il 19 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti E tu Grazie a tutti 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 Grazie a tutti